Tra le molte associazioni che sul territorio della città metropolitana di Torino si sono mobilitati in occasione della festa della donna, ma soprattutto dell'evento Just the Woman I Am, ci sono le dragonesse di Avigliana. Sono donne che hanno superato, stanno superando il trauma di un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno, facendo dello sport, pagaiando in questo bellissimo lago di Avigliana. La Presidente è Micaela Musso, che cosa vi dà in più il fatto di ritrovarvi e soprattutto di fare sport insieme? Serve per aiutarci nel movimento, nel recupero del movimento del nostro braccio dopo l'intervento, ma è soprattutto stare insieme sulla stessa barca, essere insieme nei momenti di gioia come nei momenti del dolore, essere insieme nello stare proprio sedute fianco a fianco e lo sport in questo mondo bellissimo, in questo posto bellissimo. C'è un vero e proprio movimento di donne che fanno del canottaggio per recuperare il senso della vita, per recuperare la gioia di stare insieme e di fare dello sport e voi ne fate parte? Allora, nel 1996 un fisiatra canadese, il dottor McKenzie, ha preso 20 donne che avevano un linfedema. Linfedema è il braccio che gonfia dopo l'asportazione della mammella e ha provato a mettere su di un dragone, ha provato a farle pagaiare ed è risultato che la vita migliorava, il tenore di vita, che stavamo meglio. Dopodiché da questo sono nate tante squadre nel mondo, in Italia sono 34 squadre oggi e per la Just a Woman siamo tutte collegate con un filo virtuale, faremo i 5 chilometri sul Po, sul lago d'Avigliana, sul Tevere, sull'Arno, a Venezia, in Laguna, tutto dove ci sono le nostre compagne. Paola Zaccani, lei è la capitana delle Dragonesse di Avigliana, ci spiega un po' come funziona la vostra attività, ma non solo in occasione della festa della donna di Just a Woman, ma tutti i giorni e anche in inverno vi allenate. Sì, è vero, noi siamo una squadra e mi piace poter anche dire non solo una squadra, perché non dimentichiamo che siamo un'associazione, quindi il nostro operare è qui sul lago per l'attività fisica, noi la pratichiamo tre volte alla settimana in tutto il periodo dell'anno, il martedì, il giovedì e il sabato mattina, ma soprattutto il nostro impegno è poi sul territorio, perché comunque il nostro messaggio, la nostra mission è quella di essere portatrici di un buon stile di vita, perciò più che dimostrarlo facendo attività fisica, dove è risaputo che l'insorgere di una recidiva diventa minore, conducendo un buon stile di vita, con una buona alimentazione, con dell'attività fatta in modo continuativo e questo comporta naturalmente un impegno a 360 gradi. Andrea Archina, il sindaco di Avigliana, ma che bella questa realtà delle dragonesse in questo comune, in questo splendido ambiente naturale che voi state valorizzando da un bel po' di anni. Sì, abbiamo ribattezzato un po' Avigliana, la città medievale dal cuore verde e noi ci troviamo proprio qui, in questo cuore, dal grandissimo appeal naturalistico, ma anche in cui si possono fare tante attività, quella del dragon bot insieme alle dragonesse è solo una delle tante, su questo lago grande che è il lago più pulito del Piemonte, uno dei più puliti in Italia, cinque vele di lega ambiente e touring club. Un ecosistema che va tutelato ma anche valorizzato grazie anche alla collaborazione di tutti i soggetti, l'associazione e anche gli imprenditori che da anni ormai stanno proponendo tutta una serie di attività sicuramente molto attrattive. Jacopo Suppo, vice sindaco metropolitano, quello che succede su questo lago con queste donne può essere un esempio per l'intera Valsusa ma per altri territori della città metropolitana? Assolutamente sì, la città metropolitana di Torino è un territorio ricchissimo da un punto di vista ambientale, da un punto di vista naturalistico, ha molte peculiarità come questo bellissimo lago di Avigliana ed è un territorio che davvero può offrire delle ricchezze davvero importanti da questo punto di vista, quindi le attività che si svolgono su questo lago, che sono tante, che sono variegate, che sono attività sportive ma sono anche e soprattutto attività sociali, valgono la pena di essere conosciute, di essere messe a sistema e perché no anche di essere replicate in altri luoghi. Quindi i comuni e città metropolitane devono iniziare ad essere più vicini a queste realtà come le dragonesse? I comuni lo sono sicuramente perché mettono a disposizione sempre gli spazi, la loro passione, la loro professionalità, la città metropolitana deve essere dalla parte dei cittadini e anche delle amministrazioni locali per supportare queste attività, farle conoscere, farle crescere, farle diventare motore di aggregazione sociale. In tempi complicati come questo, mentre stiamo per uscire dalla pandemia, attività come quelle delle dragonesse e luoghi come i laghi di Avigliana devono essere al centro delle attività, della ripresa del nostro territorio.